Speriamo con l'estrazione dei 4 soci che faranno parte della commissione di valutazione del restyling del logo tra i 7 soci che ne hanno fatto domanda, cioè Angelici, Capizzi, Mori, Spada, Grignoglio, Scandura, Preatoni. Useremo questa funzione che estrae un numero casuale tra 1 e 7 che adesso copierò. Il primo estratto è il numero 1, Angelici. Il secondo estratto è il numero 7, Preatoni. Il terzo estratto è il numero 2, Capizzi. Il quarto estratto è il numero 4, Spada. Grazie.